Exo Rattics, oggi siamo qua per presentarvi uno degli ultimi arrivi. Si tratta di una bellissima Volkswagen Golf, autovettura usata, unico proprietario, immatricolata a dicembre 2016, prevista al momento con 64.000 km. Si tratta di una motorizzazione 1.6, 110 CV, motorizzazione diesel, prevista nell'allestimento R-Line Sport, quindi allestimento top di gamma più accessoriato. Presenta nella parte anteriore i sensori di parcheggio con i fari full LED, i cerchi da 18 diamantati. Parlando di lunghezza, si tratta di un'autovettura lunga 4,26 m, alta 1,44 m e larga 1,80 m. È prevista nella motorizzazione bianco color metallizzato con in contrasto il tetto color black. Passando nella parte posteriore abbiamo, come nella parte anteriore, i sensori parcheggio posteriori e abbiamo il bagagliaio che presenta il doppio treno di gomme e presenta una capacità di carico di 380 litri abbattibili fino a 1.270. I sedili sono completamente in tessuto con le attaccature Isofix sui due sedili lato passeggero e presenta anche il sistema di condizionamento presente anche nella parte anteriore dell'abitacolo. Passando nella parte anteriore abbiamo i comandi per i vetri elettrici anteriori e posteriori, il volante in pelle con tutti i comandi radio e bluetooth e l'imitatore cruise control. Si tratta di un rapporto 5 marce più retro che presenta tutto quanto il sistema dell'infotainment direttamente dal computer di bordo. Si tratta di un'autovettura in pronta consegna disponibile online già sul nostro sito ratix.com. Ciao!